Ribot Gall e nemmeno Regina Bibbo, entrambi provano a partire con una certa tranquillità. Pastepiano anche Rodeo Getto, al centro dello schieramento Rodriguez B, le prese con Rumbo di Tuono. Rodriguez è leader sul rumbo, poi Regina Bibbo, ancora Regan Mail e Ribot Gall che prova a puntare in avanti, dove essere partito con cautela. Rodriguez sul rumbo, arriva a Ribot, 14-8, Ribot Gall va a chiedere strada a Rodriguez B, dovrebbe ottenerla. Ribot Gall insiste su Rodriguez che a mani ferme sembra voler dar strada all'avversario, con qualche cautela passa a condurre 30 e mezzo i 400. Ribot Gall, Rodriguez B, Rumbo di Tuono, Regina Bibbo, quarto a steccato, prova a risalire dalla coda Regan Mail, chiude il gruppetto Rodeo. Ribot giunge ai 600 in 45, avvia sul passo Ribot Gall, Rodriguez gli ha dato il via libera e lo segue. Poi Rumbo, Regan Mail che agisce in costruzione, gli altri due che per il momento assistono. 1-1 e mezzo, 16 e qualcosina, Ribot Gall, Rodriguez, Regan Mail che è propositivo a largo, va a coprire o almeno prova a farlo Rodriguez e avvicina Ribot Gall che viene un po' guidato sulla retta opposta. chilometro in 17, 15 e mezzo, Ribot, Rodriguez, Regan Mail, sempre aggressivo. Poi gli altri tre con Regina che prova a muoversi, ora Regan Mail intensifica su Ribot Gall che si difende, 15 e 2, 1, 32 e 2. Ribot Gall e Regan Mail con Regan che sembra viaggiare meglio dell'avversario che è sostenuto. Poi Rodriguez e Regina Bibo, si va all'ingresso in riddittura, Ribot ancora con mezza di vantaggio su un Regan che sferra l'ultimo attacco. Regan che attacca, Ribot Gall che prova la difesa, Ribot alla corda, Regan Mail che insiste a largo. Poi Rodriguez, Ribot che si difende da Regan Mail, i due sono molto vicini con Regan che negli ultimi metri attacca e sul palo. I due sono perfettamente apparigliati nell'arrivo lento con Ribot un po' in difficoltà di andatura ma i due molto molto vicini. Ribot di dentro e l'avversario Regan Mail a largo che ha costruito per l'inesterno, 1, 17 e 7 per chi vince. Molto difficile separare Ribot Gall e Romeo Gallucci e Regan Mail e Giorgio D'Alessandro Senior. Ci vorrà il giudice d'arrivo perché i due sono perfettamente vicini e è difficile sbilanciarsi. Attendiamo il giudice d'arrivo.